Il Bastia sbanca Ponte Valleceppi e si conferma campione d'inverno. I ragazzi di mister Luca Grilli si impongono al Giuliano Borgioni per due reti a uno in rimonta. Settimana travagliata per il Ponte Valleceppi che si presenta all'appuntamento senza mister Giacomo Bruni che in settimana ha rassegnato le dimissioni. Al suo posto in panchina c'è nel duplice ruolo di allenatore e giocatore Marco Marri che non si schiera dal primo minuto. Andiamo alla cronaca, prima occasione che giunge al diciassettesimo. Per il Ponte Valleceppi prova Sinisi su punizione dal limite, botta sul pallo del portiere ma il raso terra viene bloccato dagli illacci. Al diciannovesimo Ponte Valleceppi in vantaggio, punizione calciata da Fanini, colpo di testa imperioso di Regnicoli, palla che incoccia la traversa e varca la linea di porta nonostante i tentativi bastioli. Al ventottesimo primo tentativo del Bastia con azione da sinistra di Bococco Bura dal limite prova la conclusione col destro ma Marconi blocca senza problemi. Al quarantesimo Lampo di Stirati che si mette in proprio, si gira dai 30 metri e con un bel tiro di interno destro a girare colpisce la parte superiore della traversa. Brivido per il Ponte Valleceppi che barcolla ma non molla e porta a casa il primo tempo in vantaggio. Al quarantaduesimo altro tentativo del Bastia con una pregevole azione palla a terra. Missaia fa da sponda per Benedetti che apre a sinistra per Bura che si presenta in area ma il suo tocco è deviato da Marconi, bravo in uscita a mettere in angolo. Il tempo si chiude con il Ponte Valleceppi in vantaggio per 1-0 e l'espulsione di Ricci, dirigente del Bastia allontanato per proteste dalla panchina. Inizio di ripresa a tutto con un altro ritmo, al settimo grande assolo di Stirati che semina il panico saltando tre difensori e poi conclude di interno destro cogliendo per la seconda volta di questa giornata la traversa. Al nonno reazione ponteggiana, conclusione su punizione di Fanini, bravo Lillaccia a smanacciare in angolo. Al tredicesimo clamorosa chance per il Bastia, punizione da destra di Pinazza, palla che giunge in area, immischia Bura, tocca sottomisura ma Marconi devia sul palo e Battaglini allontana. Al ventiduesimo ci prova il Ponte Valleceppi, palla lunga per Regnicoli, torre per Vispi, conclusione del numero 11 col sinistro e palla a lato di un soffio. Passano pochi secondi ed è ancora Stirati a creare qualche grattacapo alla formazione ponteggiana. Il suo cross dalla destra sul secondo palo è per Bura, Marconi sbaglia l'uscita, sponda per Missaia che conclude, ma Battaglini di testa respinge salvando i suoi. E il preludio al pareggio del Bastia che arriva al minuto 33, quando Fiorucci è bravissimo ad anticipare Regnicoli e a ribaltare l'azione. Lancio sulla sinistra per Missaia, crossa al centro e Benedetti corregge sottomisura di testa, ristabilendo l'equilibrio. Passano pochi minuti e Bastia rovescia l'incontro, altra percussione centrale di Stirati che apre a sinistra per Bura, che salta piazza, contatto tra i due e inevitabile calcio di rigore assegnato dal direttore di gara Batini di Foligno. Dagli 11 metri rincorsa alla Perotti di Stirati che spiazza Marconi e porta il Bastia in vantaggio. Da qui in poi i bastioli reggono l'urto senza problemi, il Ponte Valleceppi abbozza una reazione che si concretizza al novantesimo quando c'è un cross dalla tre quarti di Betti. Nessuno arriva sul pallone se non Regnicoli che sottomisura si vede scippare l'occasione del pareggio da un grande intervento di Muzzani. Nel recupero c'è giusto il tempo per una grande azione personale di Rosignoli che a destra salta prima Cozzari e poi Batta Iidi, ma il suo colpo sotto termina sull'esterno della rete. Finisce 2-1 per il Bastia che chiude il girone d'andata da campione d'inverno. Non mi è piaciuto perché non abbiamo mai provato a giocare. Giocavamo solo su delle individualità e questo è sbagliato. D'altro canto c'è da fare i complimenti al Ponte Valleceppi che ha fatto un grandissimo primo tempo, molto aggressivo e anche molto buono dal punto di vista tecnico e ci ha messo in notevole difficoltà. Poi il secondo tempo c'è stato un bel chiarimento dentro lo spogliatoio. C'è stata la reazione che volevo, ma soprattutto dal punto di vista del gioco. Ma sicuramente riconoscevamo il Bastia con le qualità che ha e sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Sono contento di come hanno risposto i ragazzi sia durante la settimana che in partita. Credo che per quello che abbiamo espresso ci meritavamo di raccogliere almeno un punto. Faccio i complimenti al Bastia e ringrazio il mister Bruni per tutto quello che ci ha dato in due anni e mezzo. Ringrazio la squadra e credo che oggi qualcosina in più potevamo riportare a casa.